Il comandante interregionale il comandante interregionale Marittimo Sud. Signor Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Credendino, grazie per avermi concesso l'onore di indossare la terza stella. La ringrazio per la fiducia riposta affidandomi il prossimo incarico di comandante lucistico della Marina. Il ricordo più bello di questi cinque anni? Il ricordo più bello di questi cinque anni vi dico è quando ho avuto l'onore di partecipare alla processione dei misteri e portare il laccio a Gesù morto. Vabbè non voglio che... non mi voglio commuovere però quello è stato una cosa che mi ha toccato veramente anche perché io non sapevo di cosa si trattasse. Quindi quando mi è arrivata questa lettera con la cera lacca che sembra di antico ho scoperto questa cosa. È una cosa che mi ha toccato molto. Conoscerete l'ammiraglio di divisione Flavio Biagi quale comandante interregionale marittimo sud. Oggi mi impegno ad onorare il mio mandato in continuità con quanto fatto dal mio predecessore, l'ammiraglio Salvatore Vitiello, a cui rivolgo il mio profondo ringraziamento unitamente ai migliori auspici per il suo prossimo prestigioso incarico diverso. Grazie ammiraglio. Grazie Salvatore. Per continuare a promuovere una sinergica cooperazione con tutte le istituzioni del territorio. Non posso in questa occasione non ringraziare per l'accoglienza riservatami il sindaco della città dei Due Mari, dottor Rinaldo Melucci, e tramite lui inviare un affettuoso saluto a tutta la cittadinanza talantina. Insomma, a me la città aveva già dato tanto prima, perché io qui ho svolto tutti i miei comandi. Ho comandato la Fregata, l'Etna. L'altro le ha dato una moglie. Mi ha dato una moglie, mia moglie è nata in Piazza Ibalia, mia figlia è nata al Santissimo Annunziato. Quindi avevo, però ecco, vi dirò che quando ero alla terza divisione non sapevo che il mio futuro potesse essere tale. Invece ringrazio il capo di allora, l'ammiraglio Girardelli, che mi disegnò in questo incarico, che in realtà ammiraglio di divisione è appena stato promosso, no? E questo mi ha anche consentito di avere una lunga permanenza. Un applauso, l'ammiraglio, grazie.